Ognuno deve fare in base alle competenze che ha. Come è noto noi abbiamo avviato tempestivamente le procedure per il vincolo di destinazione d'uso che è lo strumento che il Ministero ha. So che il Comune si sta impegnando, io spero che ci sia il modo non soltanto di avere il vincolo di destinazione d'uso ma di proseguire nelle attività teatrali di alto livello. Grazie